Shopping con negozi aperti fino a tardi, buon cibo, musica, balli e tanto divertimento. La serata d'estate di sabato 6 luglio segna infatti l'inizio dei saldi anche a Castiglion Fiorentino. Per l'occasione il centro storico si trasformerà in isola pedonale a partire dalle 17 e i negozi resteranno aperti sino a mezzanotte, mentre le strade del paese saranno animate da musiche e spettacoli. Sarà una giornata di festa che segna anche l'inizio dell'estate castiglionese, di eventi, di manifestazione, ma anche un'attenzione particolare a quello che è il commercio del nostro centro storico. Grazie alle azioni messe in campo dell'associazione di categorie dei commercianti di Castiglion Fiorentino, una serata di divertimento che potrà alietare questo inizio estate. Anche quest'anno, come ogni anno, il primo sabato di luglio facciamo questa serata in compagnia di Salsa Academy, ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo Conf Commercio e noi faremo da cornice a questa serata e aspettiamo tanta gente. Per il tredicesimo anno noi saremo qui in Piazza del Comune e porteremo il nostro saggio. Il saggio prevede tutti i spettacoli dei nostri corsi bambini, ragazzi, fitness, adulti, e inizierà circa alle 21 e terminerà entro le 24, quindi sarà una serata di spettacoli, di show, di intrattenimento aperta chiaramente a tutti perché lasciamo l'ingresso gratuito proprio per permettere a tutte le persone di venire a vedere i nostri show.